Salve, volevo dire per chi è interessato al corso dello chef Gio, io mi sono iscritta al corso pasticceria lievitata e per me è un'esperienza bellissima, questo è uno dei risultati del suo pan brioche sono una casalinga, però sono appassionata ai grandi lievitati e alla pasticceria lievitata lui è bravissimo per chi è interessato, spiega bene, se hai bisogno di informazioni lo puoi chiamare al tele lo chiami, ti spiega tutto per bene, guarda, bellissimo corso per chi è interessato io dico la mia esperienza senza, non faccio, non sto a fare niente, solo dico la mia esperienza per chi è interessato, volevo imparare per bene, è il top